Si è divenuti alla conclusione che gli anestesisti saranno presenti nell'ospedale di Giarre dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 e 14. Quindi fondamentalmente si è garantito più o meno la continuità rispetto alla situazione preesistente. Così il sindaco di Giarre, Angelo Danna, dopo l'incontro avuto stamane con il direttore generale dell'ASPE di Catania Giammanco, con il direttore sanitario Luca e con il presidente del Consiglio Comunale Longo. Anestesisti dalle lunedì al venerdì e la conferma che il primario di medicina generale rimarrà ad operare a Giarre. Per l'ospedale Santi Giovanni di Dio e Isidoro non è prevista alcuna chiusura, ribadisce in un comunicato il manager Giammanco. Anzi, sono pronte proposte che una volta condivise con il territorio saranno presentate al vaglio dell'assessorato regionale alla salute che, si legge ancora, ha chiaramente espresso la volontà di riprogettare adeguatamente l'ospedale. Non è possibile perdere l'ospedale. In questo senso ho intravisto una maggiore attenzione e sensibilità. Noi sappiamo che recentemente il governo regionale ha confermato la possibilità di destinare delle risorse economiche per ristrutturare parte dell'edificio. A questi sicuramente si aggiungerà l'esigenza di implementare nuovi reparti. Quindi chirurgia, medicina, diagnostica e il pronto soccorso sono queste le condizioni per ridare all'ospedale di base a Giarre. Rassicurazioni che giungono dopo l'ennesima e forte presa di posizione del Comitato Cittadino rivoliamo all'ospedale che da anni si batte per mantenere attivi servizi che, lentamente, sono stati limitati e interrotti come il pronto soccorso. Però di fatto siamo qua a presidiare che ancora oggi i servizi per la cittadinanza possano rimanere e non progressivamente essere rimossi. Noi il nostro compito è quello di continuare a vigilare affinché non tolgono più nulla diciamo in questo ospedale che è stato letteralmente spoliato.